Mi chiamo Franco Amisano, ho 49 anni, sono laureato in giurisprudenza ed esercito la professione di avvocato. Ho deciso di appoggiare la candidatura di Germano Tosetti a sindaco di Valenza perché, conoscendolo personalmente, sono convinto che per qualità personali e per esperienza sia la persona adatta a guidare Valenza nei prossimi 5 anni. Non ho intenzione in questo breve messaggio di approfondire l'aspetto del nostro programma, del programma elettorale che sicuramente riceverete a casa se non lo avete già ricevuto. Comunque siamo in attesa di sentire e di conoscere i vostri consigli ma anche le vostre critiche perché sono convinto che il confronto e il dibattito in qualsiasi campagna elettorale sia fondamentale soprattutto in un paese democratico come il nostro. Serve il coraggio di osare e Valenza deve riprendere il suo cammino e guardare al futuro. Meglio se sotto la guida di una persona forte, autorevole, esperta che mi permetto di indicare in Germano Tosetti.